Le fiamme potrebbero non aver raggiunto, se non in piccola parte, i livelli inferiori della nave Norman Atlantic. Lo hanno rilevato i vigili del fuoco di Brindisi, che ieri pomeriggio, mentre procedevano all'aspirazione dei fumi, hanno deciso di tentare la discesa nei ponti 1 e 2, dove si trovano i garage. Ci sono rimasti meno di mezz'ora, senza però riuscire a compiere una ispezione approfondita. Ma sempre i vigili hanno potuto rilevare che ai mezzi parcheggiati non sono stati procurati gravi danni dal fuoco, ma piuttosto dal fumo, che è ancora intenso e impedisce la presenza prolungata nelle stive della nave. Si fa sempre più probabile l'ipotesi che il fuoco sia divampato all'altezza del ponte numero 4, ma si attende comunque di conoscere le valutazioni dei tecnici, della magistratura e degli investigatori che hanno sequestrato la scatola nera e che proseguiranno le verifiche dei sistemi e degli impianti della nave, con particolare attenzione ai dispositivi antincendio.